Ieri in Consiglio regionale è stata discussa l'ennesima interrogazione che ho fatto rispetto al problema della sanità, in particolar modo rispetto alla nuova organizzazione sanitaria che prevede, secondo una delibera che è stata approvata i primi di dicembre nella giunta regionale, un ospedale unico, lo ripeto, un ospedale unico suddiviso in quattro sedi. Ricordo in particolar modo le sedi di Pesero, Fano, Urbino e Pergola. In pratica il nuovo sistema ospedaliero sarà quindi formato da un unico ospedale con quattro sedi. Ricordo che prima delle elezioni i rappresentanti dell'attuale governo regionale avevano fatto le barricate contro l'idea del nuovo ospedale di Pesero, Fano, che avrebbe tenuto insieme e quindi avrebbe cercato di razionalizzare quelli che erano i reparti con la creazione di un ospedale nuovo da oltre 600 posti letto che puntava all'eccellenza e già su quella scelta c'erano le barricate perché si diceva che la regione voleva chiudere gli ospedali. Oggi addirittura si parla non di un ospedale unico con due presidi ma addirittura di un ospedale unico con quattro presidi. Questo sta creando veramente notevoli preoccupazioni soprattutto del personale medico ma non solo in generale del personale sanitario perché le persone potrebbero andare a lavorare non solamente a Pesero o Fano ma addirittura potrebbero andare a lavorare a Pergola o Urbino. Ovviamente la stessa cosa vale per il personale di rento a terra quindi di Pergola e Urbino. Sicuramente questo non andrà a ridurre quelle che sono le dimissioni che sono aumentate nel corso degli ultimi anni del personale sanitario. Ricordo che già la Corte dei Conti aveva evidenziato pochi mesi fa che rispetto al 2020-2021 c'era stato un più 39% delle dimissioni del personale medico che aveva deciso di andare a lavorare o in altre regioni o presso la sanità privata. Con questa scelta della nuova riforma sanitaria che prevede appunto un unico ospedale suddiviso in quattro sedi questo potrà dal mio punto di vista non potrà fare altro che aumentare questa fuga del personale medico verso altre realtà.